oh che cazzo fai oh guarda che qui è la mia pistola è una beretta bifilare con grilletto modificato se parte un colpo sono cazzi stai attenta stai calma stai calma ti sto accompagnando in ospedale ospedale ti curano no in ospedale aspetta voglio prima chiamare il rinforzo dove cazzo ce l'ha sto strunzo il telefono più numero di gambero cazzo che giuro ok dai ce l'ho esci forse esci esci ieri grazie